Quanti vaccinati ci sono in Toscana? Quanti uomini? Quante donne? Quanti sono i vaccinati nelle RSA? Sono domande alle quali ogni cittadino può trovare risposta nel nuovo portale vaccinazioni.sanita.toscana.it che la Regione ha presentato per rendere trasparente la campagna di vaccinazione contro la Covid-19. La campagna di vaccinazione è iniziata in Toscana come in Europa il 27 dicembre ed ora i toscani vaccinati tra RSA e personale sanitario sono più di 20.000. Avere la possibilità su un portale di seguire costantemente quanti sono i vaccini e poi tutti gli elementi di informazione e di comunicazione è qualcosa di molto importante proprio perché ognuno di noi possa seguire questo percorso con il senso di partecipazione emotiva alla nostra battaglia, alla nostra guerra, al contrasto verso il coronavirus. Adesso il portale ha diverse informazioni ma quando la campagna vaccinale andrà avanti si arriccherà di ulteriori dati come nuovi tipi di vaccini disponibili, i punti dove vengono somministrati i vaccini oltre agli ospedali, seguendo gli assetti organizzativi che l'avanzamento della campagna richiederà. La sensazione che c'è in assessorato è che ci sia una gran voglia di vaccinarsi da parte di tutte le persone, da parte degli operatori, da parte delle diverse categorie, quindi io vedo una grande attenzione positiva e una grande aspettativa da parte della popolazione rispetto alla campagna di vaccinazione. Pfizer dovrebbe consegnare il prossimo quantitativo di vaccini, il terzo, tra il 12 e il 13 gennaio, il quarto, il 18 gennaio e il quinto, il 25. Nel frattempo l'assessore Bezzini ha detto che dalle prossime settimane arriveranno anche le dosi, seppur in misura minore, dell'altro vaccino approvato da Ema, quello di Moderna.